Un appello giunge da Don Geremia Acri, direttore della Casa di Accoglienza Santa Maria Goretti della Diocesi di Andra. Un appello a donare in questo momento degli indumenti invernali, perché il freddo in questo momento si avvicina nelle nostre città, nei nostri territori. Indumenti esclusivamente da uomo. C'è una fortissima richiesta, una situazione di forte indigenza da parte di cittadini andriesi, cittadini residenti. Sì, mi permetto di nuovo in punta di piedi di chiedere di nuovo di fare questo appello accurato, davvero con tutto il cuore nel voler donare, perché molti non donano più, perché la crisi comunque ha colpito tutti quanti e quindi si ricicla il proprio abbigliamento. Però chiedo uno sforzo in più, soprattutto per gli uomini. Avevo chiesto soprattutto jeans, intimo, calzine, tute, giubbotti, maglioni e scarpe. Le scarpe, mi permetto di dire anche il numero, dal 40 al 45, taglie che servono soprattutto per gli uomini, come anche per i pantaloni, dalla 46 alla 52. Sì, essenzialmente per le donne comunque c'è un po' di più di disponibilità, però scarseggiano indumenti per uomini. Il motivo è questo qui, prima si riusciva perché il cambio delle stagioni era più facile farlo, no? Stavamo bene tutti quanti, chi più, chi meno. Oggi non c'è più questo grande ricambio stagionale. E quindi chiedo la cortesia soprattutto per quegli uomini che vengono, ma diversi giorni vanno via senza nulla, senza portare nulla, perché non c'è un maglione, non c'è una t-shirt o a volte non abbiamo anche le candele. Le candele, quelle grazie a Dio, riusciamo anche a comprarle. Però davvero chiedo soprattutto indumenti per uomini, perché questa crisi sta, e non è soltanto una crisi economica di soldi e di lavoro, che poi è la più grande opera di carità che ognuno di noi possa fare, dalla Chiesa a quelle che sono le istituzioni pubbliche, ridare il lavoro, ridare dignità all'uomo. Ma sta colpendo anche quella che è la vita normale, quella di potersi vestire, di poter soddisfare quelle che sono le esigenze più elementari, quella di poter mangiare, di potersi riscaldare, la sordità, la cecità a volte è spaventosa e mostruosa, come si perde il tempo in tante cose, in tante questioni, si perde il tempo nell'affrontare i problemi della gente in modo virtuale. Noi dobbiamo avere la capacità, il sacrificio, la voglia, il desiderio, il coraggio di scendere nella strada, vedere come vive la gente. Stanno arrivando richieste enormi, pressanti, soprattutto da quelle famiglie medie, normali, perché hanno vissuto per due anni con i loro risparmi. Ora tornano in casa conienza e davanti a una famiglia, a diverse centinaia di famiglie che io offro, io i volontari, insomma la providenza, che casa conienza offre un pasto caldo e sentirsi dire lo accetto, per me è un colpo sulla testa, io mi vergogno. Ci sono alcuni giorni che non vado in casa conienza per non incrociare i volti di questa gente che io conosco, che ha fatto dei lavori ed è davvero pesante, quindi dobbiamo risvegliarci, dobbiamo darci da fare, non è possibile perdere ancora tempo e poi illudere la gente dicendo la crisi sta terminando. Quale crisi? La crisi di chi sta bene, ma di chi sta male continua ancora a stare male.